SILVIO BERLUSCONI SILVIO BERLUSCONI SILVIO BERLUSCONI Asi i nostri avversari dichiara il capogruppo la Camera Brunetta Finché c'è BERLUSCONI questo partito è BERLUSCONiano Ma è USVALDO NAPOLI a richiamare tutti a non strumentalizzare la leadership di BERLUSCONI per sostenere le proprie opposte richieste Tenta la mediazione ancora una volta цaways in un'intervista al Corriere della Sera dichiara Serve un binomio BERLUSCONI-AILFANO oppure due partiti federati tra loro meglio di un partito bloccato da una conflittualità cieca.